Ancora una volta fa notizia la Madonna del Parto, il celebre affresco di Piero della Francesca è da 40 anni l'occhio del ciclone dall'offerta che il Metropolitan Museum di New York fece per l'affitto di sei mesi dietro un compenso di 400 milioni di lire al contenzioso ventennale che ha diviso Comune Curia sulla proprietà dell'opera. Poi ci si è messo addirittura lo Stato che ha fatto causa a se stesso, visto che il Ministero si è opposto ad una sentenza del TAR che sostanzialmente dava ragione al Comune sulla collocazione dell'opera. Ora la sentenza del Consiglio di Stato che ribalta il quadro e sulla carta rende possibile il ritorno laddove è sempre stata fino al 1992, in realtà le cose stanno in maniera diversa. La cappellina dove Piero dipinse l'opera che è considerata tra le più belle del mondo e che spesso ha ispirato artisti e registi non esiste più. Quando Piero della Francesca scelse quel luogo che ha una sua storia, una tradizione, non c'era il Camposanto, le condizioni sono oggettivamente cambiate. Il Comune di Monterchi decise per il trasferimento e un'occasione del restauro che venne pagato con i soldi della vecchia banca Etruria. Da soluzione provvisoria divenne soluzione continuata in attesa di una collocazione definitiva e in questo senso l'accordo con la Chiesa aveva questo scopo. Tornare nella vecchia struttura ad oggi sembra proprio impossibile.